Nell'ultimo di turno di campionato il nuovissimo Sardegna Arena è stato espugnato dal Sassuolo grazie alla rete dell'ex matri. Oggi il Cagliari cercherà di fare bottino pieno contro un Chievo reduce da due pareggi consecutivi con Atalanta e Genoa. Queste le scelte di Rastelli e Maran. Cagliari. Cragno. Padoin. Andreoli. Pisacane. Miangue. De Sena. Barella. Ionita. Gioiaio Pedro. Giannetti. Sahu. Al. Rastelli. Chievo. Verona. Sorrentino. Tomovic. Gamberini. Dainelli. Cacciatore. Castro. Radovanovic. Rigoni. Birsa. Pucciarelli. Inglese. Al. Maran.